Salvataggio allo Zingaro, un'escursionista piemontese recuperata grazie ad un intervento congiunto di soccorso alpino e aureanatica militare. Itinerari tra arte e fede, la prefettura fa rete per tutelare e valorizzare gli edifici di culto delle diocesi di Trapani e Mazzara del Vallo. Al via Macararo si è aperta a pace con la rassegna artistica culturale organizzata dal comune e dalla Proloco. Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento serale. È stata recuperata un'escursionista rimasta ferita nella riserva naturale dello Zingaro grazie ad un intervento congiunto di soccorso alpino e aureanatica militare. I dettagli nel servizio. Un nuovo intervento congiunto del soccorso alpino e speleologico siciliano e dell'ottantaduesimo centro SAR dell'aeronatica militare ha avuto luogo nella riserva naturale orientata dello Zingaro a Trapani per il recupero di un'escursionista rimasta ferita. Solo il giorno prima era stata completata una missione simile per soccorrere un sessantenne casertano nell'isola di Marettimo. La donna, una cinquantenne piemontese, stava facendo un'escursione con il marito e un gruppo di amici. Entrati dalla zona di San Vitolo Capo stavano percorrendo il sentiero costiero quando nei pressi di Calaberretta è scivolata riportando una sospetta frattura di tibia e perone. I compagni hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118, vista la natura impervia del luogo, ha allettato il soccorso alpino. Per minimizzare i rischi di un'operazione via terra, data la distanza dagli ingressi della riserva, è stata chiamata in causa l'aeronautica militare. Un elicottero HH-139B dell'82esimo centro SAR del quindicesimo stormo, decollato dall'aeroporto di Trapani-Birgi, ha trasportato due tecnici del SAS sul luogo dell'incidente. Una volta raggiunta l'escursionista ferita, gli specialisti del soccorso alpino e un aerosoccorritore dell'aeronautica si sono calati col berricello. Hanno immobilizzato la gamba della donna, l'hanno issata a bordo e poi trasportata all'ospedale di Alcamo. Adesso la cronaca padre e figlio arrestati per assorzione dalla polizia di Trapani nel mirino ai titolari di un bar che li hanno denunciati. Al bar padre e figlio mangiavano e bevevano gratis tutti i giorni. Oltre a non pagare si facevano consegnare dai titolari somme di denaro e se le vittime si rifiutavano erano botte. Padre e figlio sono stati arrestati dalla polizia di Trapani per estorsione aggravata e continuata. Ora sono in carcere. Il padre ha 49 anni, il figlio invece 23, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il calvario per i titolari sarebbe iniziato dallo scorso mese di dicembre e proseguito fino all'arresto dei due presunti estorsori. Tutti i giorni si presentavano al locale, consumavano e non pagavano. Guai a ribellarsi, botte da orbi e suppellettili danneggiati. Alla fine però le vittime stanche di vivere nel terrore hanno sforto denuncia. Per padre e figlio è scattato l'arresto. A porre fino all'incubo gli agenti della squadra mobile. La pagina della politica all'opposizione del Consiglio Comunale di Trapani ha prodotto un documento sulle tematiche che riguardano soprattutto i pozzinici. Sentiamo. Tante occasioni sprecate in sei anni e questa l'accusa dei consiglieri di opposizione Lami a Gianformaggio e Miceli nei confronti dell'amministrazione Tranchida. L'argomento è sempre quello, la mancanza dell'acqua. Durante il Consiglio Comunale di lunedì i tre del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia hanno letto e presentato un documento che riguarda soprattutto la situazione dei pozzi di Inici. Pozzi che sarebbero stati abbandonati nel 2018 perché l'amministrazione era impossibilitata a garantire la manutenzione. Una scelta che non consentirebbe di avere quei litri in più per poter sopperire all'emergenza. La minoranza insomma ha affermato di non condividere l'operato dell'amministrazione comunale di Trapani che avrebbe dato a Siciliacque tutte le strutture esistenti di proprietà comunali e il 60% della concessione idrica della falda acquifera di Inici. Viene da chiedersi ma cosa ha indotto l'amministrazione comunale a non valutare per se stessa questa opportunità lasciando a disposizione dei Trapanesi e in generale della provincia di Trapani il 100% delle risorse idriche a Inici. L'accordo con Siciliacque si sarebbe ridotto al pagamento alla stessa società del vettoriamento del prezioso liquido per Trapani o in alternativa al vettoriamento per Alcamo senza alcun costo aggiuntivo per i Trapanesi. In tal caso la stessa portata ridotta dallo spillamento per Fulgatore sarebbe stata immessa da Siciliacque nel serbatoio di San Giovannello a disposizione dei cittadini Trapanesi e all'occorrenza dei comuni limitorvi senza ulteriore aggravio di spese. Per quanto sopra e peraltro evidenti incongruenze riscontrabili nell'atto neggetto. I sottoscritti provvederanno a presentare regolare denuncia alle autorità giudiziarie di Trapani e all'ANAC di Roma per la verifica della legittimità dell'atto. Ci spostiamo adesso a Palermo dove si è svolta il primo Inclusion Job Day, iniziativa rivolta ai soggetti disabili. Una giornata dedicata all'incontro tra domande e offerta di lavoro per i soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento. Si è svolta a Palermo il primo Inclusion Job Day, l'evento organizzato dal Centro per l'impiego di Viale Praga con l'obiettivo di agevolare l'inclusione sociale delle categorie più fragili e promuoverne l'autonomia. L'obiettivo, come è rimarcato dall'assessore regionale Nuccia Albano, è quello di rafforzare l'incontro tra domande e offerta per i soggetti disabili. Poniamo molta attenzione per quanto riguarda il lavoro dei nostri siciliani, ma soprattutto per i soggetti che sono più fragili e quindi dobbiamo come istituzione favorire l'inclusione e poter trovare delle opportunità lavorative perché il lavoro è dignità, per cui ritengo che sia importante quello che stiamo facendo e tanti altri progetti saranno da venire. Sono trascorsi pochi giorni, diciamo, ad aprile c'è stato quest'ultimo convegno dell'Istituto dei Scechi, è già operativo lo spartello che avevamo preannunciato, a cui si possono rivolgere tutte le fasce fragili, i disabili, i migranti, le donne vittime di violenza, per poter dare loro un supporto sotto il profilo lavorativo. Si è trattato di un primo evento sperimentale riservato a un piccolo campione di aziende. Da una parte 16 imprese internazionali, nazionali e locali che hanno ricevuto e valutato i curricula. Dall'altro circa 400 aspiranti lavoratori già iscritti al collocamento, mirato che, dopo essersi prenotati ed avere preso visione delle posizioni aperte, hanno sostenuto i colloqui conoscitivi. Noi abbiamo intanto contattato le aziende e oggi ci siamo limitati, proprio perché è un inizio, diciamo, di questa attività, a 16 aziende che ci hanno dato la loro disponibilità. Aziende che va sottolineato che non sono in obbligo di assunzione con la 68, per cui, ricependo la sensibilità dell'argomento, hanno voluto partecipare e dare il loro contributo. Abbiamo poi coinvolto, e ci siamo anche lì limitati a un numero, proprio per un problema logistico, a 400 lavoratori iscritti alla 68 presso questo ufficio. e quindi, diciamo, ci sarà la possibilità di presentare 400 curricula a queste aziende e premetto che a monte abbiamo fatto anche un lavoro sulle competenze e sulle schille di questi lavoratori, per facilitare, appunto, l'incrocio alle domande e offerte di lavoro. La prefettura di Trapani fa rete per tutelare gli edifici di culto delle diocesi di Trapani e Mazzara del Vallo. Nasce così il progetto itinerari tra arte e fede alla scoperta del patrimonio del fondo edifici di culto. Vediamo di cosa si tratta. La prefettura di Trapani, in collaborazione con le diocesi di Trapani e Mazzara del Vallo, l'archivio di Stato, la soprintendenza, il Museo Regionale Pepoli, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e il Conservatorio di Musica di Trapani ha lanciato un nuovo percorso culturale intitolato Itinerari tra arte e fede alla scoperta del patrimonio del fondo edifici di culto. Per il mese di luglio sono previsti due eventi principali. Il primo sarà venerdì 12 luglio alle ore 17.30 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi. I partecipanti attraverso la storia e l'architettura della chiesa scopriranno dettagli storici e documentari. Sabato 20 luglio alle ore 19.30 presso la Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani si darà invece la presentazione della Basilica e dei suoi tesori. Un team di esperti illustrerà le meraviglie architettoniche e storiche della Basilica fornendo una visione approfondita dei beni culturali ecclesiastici in essa custoditi. Gli incontri termineranno con un momento musicale. Previsti per il mese di agosto altri itinerari culturali che continueranno a esplorare e valorizzare il patrimonio artistico e religioso del Fondo Edifici di Culto. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale ecclesiastico promuovendo la conoscenza dei beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto, educare e coinvolgere il pubblico attraverso la collaborazione con enti culturali e scolastici e unire arte e musica creando eventi che combinano la presentazione storica e architettonica con intermezzi musicali. L'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea ha revocato il finanziamento di quasi 600 mila euro destinato all'amodernamento dei porticcioli di Punta Lunga a Favignana e Cala Dogana a Lepanzo. Cerchiamo di capire perché. La notizia della perdita del finanziamento di 572 mila euro che era stato concesso al comune di Favignana è stata resa nota dal consigliere comunale dell'Ega di Francesco San Martano con un post su social in cui ha pubblicato per intero il provvedimento di Recova del Dipartimento Pesca della Regione che puntava alla riqualificazione e all'ammodernamento dei porticcioli di Punta Lunga a Favignana e di Cala Dogana a Lepanzo. La perdita del finanziamento di 572 mila e 900 euro destinato dalla Regione siciliana al comune di Favignana per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e riamodernamento dei porticcioli di Punta Lunga a Favignana e di Cala Dogana a Lepanzo è un gravissimo danno di natura economica e sociale per l'intera comunità egadina. Penso ai tanti pescatori in primis ma anche ai cittadini che avevano a lungo sperato in questi interventi. Ciò che fa specie è che nell'aprile del 2022 il sindaco che nonostante le numerose critiche da tenere tempo la delega lavori pubblici aveva pronunciato entro la fine dell'anno la realizzazione degli interventi. Invece nel 2023 nonostante i ripetuti solleci della Regione siciliana sia per le vie brevi che per iscritto nel marzo e nel novembre 2023 nessuno dal comune di Favignana si è mai degnato di rispondere a queste richieste di chiarimento stante che gli interventi andavano realizzati entro il 31 dicembre 2023. Ovviamente il danno è stato prodotto e penserei di rimediare stornando altri soldi pubblici comunali per la realizzazione di questi interventi significherà distorgerli da altri interventi. Penso alle infrastrutture sociali e sportive che versano in stato di totale abbandono. Per questo ritengo indispensabile che vengano appurate le responsabilità di natura errariale legate a questo enorme danno economico per l'intero territorio egadino. Da Favignana a Paceco dove si è aperta la rassegna artistico-culturale Macararo. Stare a Macararo nell'antico dialetto significa stare sedute al fresco magari in cerchio ed ascoltare storie, aneddoti, pettegolezzi. Un modo antico di stare insieme, condividere esperienze e creare socialità. L'idea della rassegna è di provare a riportare questa tradizione sedendo al fresco dei pini per parlare di libri, guardare un po' di teatro e discutere attraverso i talk di sensibilizzazione. A Macararo è uno dei progetti culturali della nostra amministrazione e questa sera appunto comincerà con la prima attività e si svilupperà integrando vari linguaggi. È uno dei progetti appunto culturali sviluppati per quest'estate che si mescolerà con altre attività che si vedranno distribuite tra la piazza e altri luoghi del paese con la speranza e l'obiettivo di fare in modo che le politiche culturali possano avere una centralità nello sviluppo del nostro territorio per avviare un percorso di sana crescita. La rassegna promossa dal comune di Paceco e dalla Proloco è a cura di Giovanna Scarcella. Abbiamo il primo appuntamento con Maurizio Macaluso e il suo Buonanotte Totò e poi tantissimi altri appuntamenti che ci terranno compagnia per tutta l'estate. La rassegna si terrà alla villa comunale di Paceco e vi aspettiamo numerosi. Grazie. E ieri nella villa comunale di Paceco si è tenuto il primo appuntamento della rassegna con Maurizio Macaluso per parlare del suo romanzo Buonanotte Totò. Quello di questa sera non è stata la classica presentazione di un libro. Nei giorni scorsi insieme con Giovanna Scarcella che è l'anima di questa manifestazione abbiamo pensato di fare una cosa diversa e così oggi i personaggi non sono rimasti confinati all'interno delle pagine del libro ma sono usciti fuori, si sono materializzati attraverso le immagini davanti agli occhi degli spettatori e attraverso le voci di Giovanna e di Rosario Bonfiglio che ci ha affiancato in questa presentazione hanno parlato a pubblico, hanno raccontato le loro storie, i loro drammi, i loro dolori. È stato un viaggio davvero emozionante che è stato molto apprezzato dal pubblico. Io ringrazio Giovanna Scarcella e l'amministrazione comunale per avermi consentito di presentare. Buonanotte Totò alla villa comunale di Paceco. Termina qui la nostra edizione del telegiornale, adesso la linea Vallo Sport e io vi auguro buona serata.